È partito il Castiglioni Film Festival a quattro serate con incontri con i più grandi attori, primo tra tutti Fabrizio Bentivoglio, ma anche con la finale del concorso Toscana in giallo che ha portato molti autori qui a Castiglion Fiorentino e con una bella mostra organizzata dal MUEC, il Museo dei mezzi di comunicazione sulla storia del cinema. Una bella cornice quella del piazzale del Cassero qui a Castiglion Fiorentino, credo che valga davvero la pena perché c'è questo incontro con gli autori, con gli artisti tutte le sere da domani a domenica, poi ci sono questi film di primo livello, credo che davvero valga la pena. Poi quest'anno ospitiamo anche questa mostra del Museo dei mezzi di comunicazione, è un allestimento estemporaneo dove facciamo vedere un po' l'evoluzione del mondo del cinema. L'apertura è un onore di questo festival, è dedicato a Passi, che è un corto inedito. Ho cominciato qui come organizzatore e crescendo con il Cassione Film Festival sono anche entrato come creatore di contenuti dentro il mondo del cinema, ho fatto un po' di aiuto regista in questi anni, altri lavori del genere, fino a poter realizzare, anche grazie al bando che abbiamo vinto, ovvero la strada per utopia, fermamente in comune in pratica, questo cortometraggio grazie anche al lavoro di tanti altri giovani più o meno della mia età, un po' più giovani, un po' più grandi, e questo lavoro speriamo che piaccia. Per noi è una grandissima soddisfazione presentarlo in casa, presentarlo qui e raccontare un po' il nostro punto di vista su Cassione Fiorentino.